buon pomeriggio a tutti benvenuti ciao a tutti ciao sveva buon pomeriggio eccoci qui nel pieno dell'autunno in questo bel venerdì a occuparci della natura del nostro territorio e vi racconteremo storie molto belle e poi tra l'altro oggi come sempre facciamo vedere la vostra immagine del vostro filmato in questo caso oggi è un'immagine una fotografia bellissima ce la manda di paesaggio chiaramente come potete vedere rita mandarano che è una nostra telespettatrice affezionatissima ci manda sempre tantissime foto di cui insomma ci fa anche un po invidia perché guardate che vista incredibile questa è proprio una veduta panoramica sì dell'isola di vulcano e vulcanello che sono uniti da un ismo che è nato dopo l'eruzione del sedicesimo secolo quindi questa foto è stata fatta poi tra l'altro dall'osservatorio geofisico proprio di lipari quindi siamo su lipari bellissimo veramente grazie si vede l'attività perché il vulcano ricordiamocelo ha ripreso un'attività dopo più di 100 anni consistente sì abbastanza con grandi fumi nuvole terremoti insomma molto affascinante questa terra viva che si modifica continuamente che si muove importante che non sia pericolosa per i suoi abitanti per il momento che io sappia però insomma viene monitorato ne abbiamo anche parlato qui in studio proprio perché è un'attività che viene comunque tenuta sotto d'occhio sotto occhio ovviamente deve essere proprio una cosa speciale vivere sopra un vulcano insomma nel bene e male sia anche perché poi oltretutto nella parte positiva sono posti unici per la fauna la flora il paesaggio che si può osservare sono un patrimonio del nostro mediterraneo interraneo